Allora, niente, volevo creare un rinforzo, allora vado a creare su questo piano superiore uno schizzo e usare il comando nervatura, dunque vado sullo schizzo, mi posso portare meglio che mi porto su questo piano qua e vado a prendere questo punto con questo. Ok? La linea diventa nera e siamo perfetti. A questo punto proviamo il comando nervatura, vado a usare nervatura, direzione, mettiamo 5 mm di spessore, la direzione deve, faccio inverti, ok, provo a creare la nervatura ma non me la crea. Ok? A questo punto rifaccio lo schizzo e per esempio, schizzo, vado a aggiungergli un pezzettino, proviamo qua, ok, e aggiungo un pezzettino lungo l'asse x orizzontale. Ok? Ok, ma sarà aggiunto. Proviamo e questa volta vediamo, andiamo su funzione, nervatura, direzione, inverti, direzione, vediamo se è giusto, ok, faccio così e lui me la crea. Da notare questa cosa qui, che me la crea così, dunque c'è questo due decimi di spessore, mentre, naturalmente perché è in centro, qui noi siamo perfettamente in centro, dunque se mi allargo, ho due e mezzo da una parte e due e mezzo dall'altra, e giustamente mi crea. Mentre qui l'ha presa in questo modo, cioè va direttamente, dritto arriva qui e poi scende. E dunque non ho più quello spessore ma va, continua in questa direzione qua, in questa, ok? Dunque sono leggermente diversi. Proviamo a vedere se lo fa anche nell'altro modo, cioè andiamo a modificare lo schizzo, questo lo rendiamo costruttivo e qui invece attiviamo la riga orizzontale, così. Ok, ok, provo e questa volta non me lo crea, ok? Dunque da quella parte là me lo crea, da questa parte no. Ritorno sullo schizzo, vado a rendere, tolgo il costruttivo, lo rendo reale, ok, schiaccio e la nervatura si dovrebbe creare, perfetto. E si crea naturalmente allo stesso modo che sia creata qua, diversamente da prima che continuava dritta. Cioè arriva qui, ok, e naturalmente è un pochino, dunque c'è questo spessore sempre di circa due decimi come era prima. Ok, e dunque, ecco, comando nervatura, quando voglio usarlo con delle forme circolari, devo stare attento poi allo schizzo e stare attento anche se voglio questo tipo di forma, ma o voglio, vediamo, andiamo a modificare, o se voglio, come abbiamo fatto qui, ok, questo tipo così, che va dritto, ok? Arriva qui a pelo e così via, ma di solito io uso sempre questo qui, cioè arrivo pari e naturalmente ho questo leggero spessore perché naturalmente più io creo che una nervatura diventa minima, più io adesso lo porto a uno, uno spessore, dunque 0,5 da una parte, 0,5 dall'altra, ma naturalmente, praticamente è pochissimo, andiamo a misurarlo, ed è proprio un centesimo, anzi meno di un centesimo, 7 millesimi. Ok, niente, ci vediamo alla prossima, arrivederci.